Che bello rivedere Spike Lee, presidente della giuria di Cannes, anche quest'anno, anche nel senso che era stato confermato per l'anno scorso, però per i motivi che tutti sappiamo non si è potuta tenere il festival. Quindi l'hanno richiamato e gli hanno detto senti, fammi presidente anche quest'anno e diciamo che siamo tutti contenti. Sì, Cannes riprende la dovesse interrotta, quasi come se l'anno scorso non fosse esistito, se non come un modo per mettere un bollino su certi film che successivamente è il caso di estate 85, sono usciti come sponsorizzati da un festival di Cannes che per via del Covid non è avvenuto. Quindi Spike Lee, di nuovo presidente di giuria, è un modo per esprimere continuità rispetto a un'edizione che non si è svolta. Il numero dei film però in concorso è praticamente raddoppiato. Adesso abbiamo una lista veramente fitta di grandi nomi, di tantissimi film. Insomma, secondo te in dieci giorni si riuscirà a vedere tutto quanto. Tra l'altro sai qualcosa delle restrizioni? Hai visto come si sono comportati? Mi sa che sono ancora tutti con l'ansia che potrebbe ancora esserci qualche novità. È tutto ancora molto indefinito. Probabilmente il festival si svolgerà regolarmente al Palais con restrizioni e con complicazioni notevoli nel caso in cui dovessero presentarsi dei contagi. È una sfida che Cannes accetta sull'onda del successo della precedente edizione della Mostra di Venezia svoltarsi tutto sommato senza problematiche. Invece per Venezia pare che se non dovesse esserci nessuna sorpresa quest'estate, per Venezia a settembre saremo tutti tranquilli. Invece Cannes è in questo periodo, come appunto l'anno scorso, ancora caldo, è tutto in forze. Però, insomma, i 24 film portano comunque dei nomi veramente importanti e interessanti. Abbiamo Veroven, Sean Penn, lo stesso Zon di cui abbiamo parlato nella prima parte, Wes Anderson. Eastwood non l'ho visto però in gara. No, Eastwood, come anticipavamo la volta scorsa, è possibile che sia pronto per Venezia. Cannes, abbiamo visto soprattutto in ultime edizioni, ha preso le distanze, in un certo senso, dalla produzione mainstream, soprattutto americana. Nella fattispecie nei confronti di quelle produzioni che si appoggiano alle piattaforme streaming, in primis Netflix. È una scelta che deriva dal fatto che Cannes, tranne pochissimi casi selezionati come Nanni Moretti, pretende film in anteprima assoluta. Nanni Moretti che porta Tre Piani, il suo nuovo film, che prima non abbiamo ignorato volutamente, ma anzi è uno dei nostri baluardi del festival e speriamo che si faccia notare. Tra l'altro abbiamo visto che ha fatto anche uno spot un po' particolare, perché anziché fare il trailer classico, se ne è uscito con una specie di, una sorta di breve videoclip sulla canzone di Mahmood. Sì, insieme al teaser è uscita questa clip pubblicata su Instagram in cui Moretti si diverte a presentarsi con il resto del cast, con il cast femminile del film, sulle note di soldi quasi agghindandosi in vista della premiere cannense. La presenza di Moretti era data praticamente per scontata già dall'anno scorso, il film molto probabilmente avrebbe dovuto competere. Moretti ha deciso di non far uscire il film, che è quindi rimasto sugli scaffali fino ad ora. Il film sarà in uscita nelle nostre sale soltanto a settembre, ma Moretti ha preferito pazientare invece di far uscire il film in sala. C'è qualche regista o qualche film che sei in ansia di vedere, di scoprire, qualche nuovo talento piuttosto che qualche veterano? Ecco, parlare di novità in un contesto come il Festival di Cano, soprattutto di queste ultime edizioni, è più o meno un controsenso. La Cremessa ha più o meno assunto un carattere conservativo abbastanza netto negli ultimi anni. Viene quasi da dire che i nomi siano a rotazione quasi sempre gli stessi. Le pochissime novità del programma, i nomi più giovani, gravitano comunque attorno alla rassegna, penso a Juhu Koasmanen, che è un nome molto interessante, vincitore della Satan Regarde cinque anni fa, con la vera storia di Ollimaki, uno degli esempi più freschi e più simpatici del cinema nordico delle ultime stagioni. Il resto della line-up si orienta su nomi che a Cannes hanno transitato più e più volte, a cominciare dallo stesso Moretti per l'ottava volta in concorso. Le Oscar Hacks che torna in grande stile a nove anni da Ollimotros con Annette, questo musical con canzoni originali degli Sparks che promette di fare faville. Abbiamo visto il trailer, sembra veramente un'opera mastodontica. Con questo film si aprirà il Festival. Le Oscar Hacks non è proprio una new entry e si sta dimostrando comunque un regista sempre ricco di sorprese. Speriamo che il livello sia sempre più aggiornato e fresco, perché abbiamo dei nomi come Verhoeven piuttosto che Wes Anderson che continuano dalla loro ormai decennale carriera a sorprenderci con dei film veramente interessanti. Puoi anticipare qualcosa di Verhoeven piuttosto che dello stesso Sean Penn che abbiamo citato prima o di Wes Anderson? Sì, il nuovo film di Paul Verhoeven viene dopo Elle, uno dei film europei più strepitosi delle ultime stagioni e questo Benedetta è la vera storia di Benedetta Corsini, una suora del XVII secolo invischiata in una storia di torbide e inconfessabili passioni segrete. Invece del film di Wes Anderson che cosa ci puoi anticipare. Anche Wes Anderson avrebbe dovuto competere lo scorso anno, come Moretti e Verhoeven ha preferito non far uscire il film e il film sarà quindi competizione. È la solita pellicola corale alla Wes Anderson, piena di colori pastello, di omaggio al cinema che fu, in particolare questo film nasce come un omaggio al cinema di Jacques Tati. È un film che promette di essere un Wes Anderson all'ennesima potenza. Oltre a questi due film è da segnalare a mio avviso anche la presenza preponderante delle produzioni locali, se pensiamo che sono 24 film, un terzo di loro, quindi 8 film, sono produzioni francesi. Abbiamo citato l'Oscar Axe, Verhoeven conta come produzione francese, ma possiamo annoverare anche François Zon, Catherine Corsini, Bruno Dumont, il ritorno di Jaco Diara dopo La Palma d'Oro di Pan. Julia Ducornot che è una regista emergente che promette un film dalle tinte molto forti come il precedente Ro, che ricordiamo era un horror sul cannibalismo. Ma ci sono anche molti altri nomi molto interessanti, a partire da Miansen Love che finalmente rilascia il tanto atteso Bergman Island, che è una coproduzione internazionale con Tim Roth, Mia Vazikowska, la Vicky Crips del filo nascosto ambientata sull'Isola di Faro, che è stata il centro dell'opera e della poetica di Ingmar Bergman, che dà per l'appunto titolo al film. Hai citato in precedenza Sean Penn che deve in qualche modo rimediare allo scorno subito giustamente qualche edizione fa con il terribile The Last Face che fu fischiato al termine della proiezione. La presenza americana è molto risicata e mi viene da dire viva Dio. Sono presenti soltanto tre produzioni americane, Sean Penn, Sean Baker che ricordiamo come regista di The Florida Project, di Tangerines e per l'appunto Wes Anderson. Ormai è acclarato il fatto che le produzioni americane, soprattutto quelle più grosse, ormai transitano per Venezia e penso che non farà eccezione neanche quest'anno. Pensiamo ai film più grossi che sono rimasti esclusi a partire da Dune di Denis Villeneuve, che probabilmente aprirà la mostra, o Soggy Bottom, il nuovo film di Paul Thomas Anderson, a sua volta fuori dalla selezione. Le grandi produzioni lewudiane quindi ormai preferiscono passare per la Laguna piuttosto per la Croisette. La tragédia di Macbeth e di Joel Coyne che non figura nel programma e quindi ormai prassi, soprattutto vista la politica anti-Netflix di Thierry Fremont, che le produzioni americane, soprattutto quelle più economicamente importanti, ormai siano a pannaggio di Venezia. Hai citato anche Nanni Moretti, prima viene quasi da chiedersi come mai non siano presenti in nessuna sezione, aspettando la King's Ender Realisateur, due film che erano molto attesi. Sto parlando di Il Buco, di Michelangelo Frammartino, autore delle Quattro Volte, uno dei talenti più straordinari che abbiamo in Italia, o a Chiara di Jonas Carpignano, il regista di Acciambra. Entrambi i film girati in Calabria negli ultimi due anni che erano attesi, soprattutto Carpignano, che è una creatura cannense, nato con la presentazione di Mediterranea, la settimana della critica, accolto con grandissimo favore, proprio con Acciambra nella chiesa dell'Alesatore. È un peccato quindi vedere la presenza italiana, vista la qualità delle persone coinvolte, limitata soltanto a Moretti, da cui mi aspetto comunque un altro grande film. È il suo primo film che si appoggia a un soggetto non originale, in questo caso un piccolo caso letterario, il romanzo del scrittore israeliano Escolnevo, un casto delle grandi occasioni, quindi la solita, per virgolette, Margherita Bui, Riccardo Scamarcio, lo stesso Moretti. È la prima volta che un film di anni Moretti viene presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, visto che si tratta di uno dei pochi fedeli della manifestazione a cui è, fra virgolette, concesso di far uscire il suo film nelle sale in precedenza. Andre, hai analizzato il panorama filmico sul fronte americano, sul fronte occidentale europeo, ma ci sono altri film comunque molto interessanti dalle altre parti del mondo. Quando mi hai detto che ce ne sono tre in particolare, su quale bisogna avere un occhio un po' di riguardo? Sì, c'è molta attenzione da Cannes per il prodotto locale, quindi soprattutto europeo, come forma di rilancio dopo un anno di stasi, ma comunque non vanno sottovalutate tre presenze molto importanti, come Asgar Faradi, il più importante regista iraniano in attività dopo la morte di Chiarostami, che torna in Iran dopo un film piuttosto mal riuscito, come tutti lo sanno. Torna invece in patria con A Hero, un film su cui c'è la massima segretezza. È il grande ritorno anche di Apichapong Veraseta Kool, il faro della produzione thailandese, che per la prima volta gira in lingua inglese. Protagonista Tilda Swinton, un film ambientato in Sud America, un film assolutamente internazionale che sono sicuro che non mancherà di sorprendere. E poi invece dall'Est Europa, che quest'anno latita. Noi abbiamo più volte rimarcato l'assoluto stato di salute della cinematografia dell'Est Europa, a partire da quella rumena e via dicendo. Abbiamo soltanto un titolo proveniente da quella zona, che è il nuovo film di Il di Cognedi, la più importante regista ungherese in attività Orso d'Oro nel 2017 per Corpo e Anima. Torna con The Story of My Wife, che è l'adattamento di un romanzo di Milan Fust, e a novela nel cast Le Asseidu. Oltretutto è una cosa veramente pazzesca. Le Asseidu, che è da sempre considerata un po' la cocca del cinema francese e della Croisette in particolare, quest'anno è presente non con uno, non con due, non con tre, ma con quattro film in programma, di cui tre in concorso. Il film di Bruno Dumont, questo di Il di Cognedi e il film di Wes Anderson, dove ha una particina. Ma comunque è una presenza assolutamente soverchiante quest'anno. Grazie, Andre, per questa panoramica approfonditissima sul Festival di Canne, che ricordiamo si terrà dal 7 al 17 di luglio, sperando sempre che non ci siano delle novità sul fronte pandemico, ma incrociamo le dita e staremo a vedere. Intanto mi raccomando, caro pubblico, informatevi sul programma, che sarà comunque in costante aggiornamento, e anche sui registi che verranno presentati, così da essere informatissimi e sempre sul pezzo. Andiamo in conclusione con un'ultima anticipazione per nulla piccola, anzi parliamo proprio di un film praticamente che è di casa nostra, anche se è di stampo americano. Parliamo dell'ultimo film di Enrico Casarosa, questo lungometraggio d'animazione, che qui in Liguria stiamo aspettando veramente con tantissima ansia, da praticamente un anno e anche più, stiamo parlando di Luca. Luca è un film d'animazione ambientato completamente nella nostra terra, e lo vedremo in anteprima internazionale il 13, il 14 e il 15 di giugno, proiettato all'Acquario di Genova a sfondo benefico. Tutti i soldi dei biglietti andranno in beneficenza. Sarà disponibile poi dal 18 di giugno su Disney+, e poi speriamo di poterlo vedere finalmente al cinema tutti quanti. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Enrico Casarosa per il suo debutto nel lungometraggio, con un film profondamente nostro, che sono sicuro manterrà il livello altissimo delle produzioni Pixar più recenti. Non nego che un certo campanilismo ci possa portare a vederlo con un certo favore. Facciamo il tifo per questo film, non mancheremo di analizzarlo debitamente, ma è un pezzo di cuore, quindi io sono molto molto curioso di vederlo. Andate a vedere il trailer, mi raccomando, perché è coloratissimo, divertentissimo, la qualità sembra veramente eccelsa. Noi che siamo di casa saremmo molto molto severi, probabilmente, oppure troppo buoni. Comunque l'esagerazione non potrà mancare, perché quando si parla di un tema molto specifico, proprio gli ultimi che dovrebbero commentarlo sono proprio quelli di casa o i più lontani, come se si facesse un film su una squadra di calcio. I tifosi della squadra non saranno mai contenti al 100%. Con questo noi ringraziamo il pubblico in ascolto. Io ringrazio ancora una volta Andrea Bosco di essere stato qui al mio fianco. Arrivederci a tutti. E noi ci risentiamo la settimana prossima qui su Radio Sdac.